E saluto la Delegazione della Diocesi di Tera Moatri, con il Vescovo Monsignor Lorenzo Leuzzi e numerose autorità civili. Dalla vostra terra, precisamente da Castelli, proviene il presepe monumentale in ceramica. La festa del Natale ci ricorda che Gesù è la nostra pace, la nostra gioia, la nostra forza, il nostro conforto. Ma per accogliere questi doni di grazia occorre sentirci piccoli, poveri e umili, come i personaggi del presepio. Anche in questo Natale, in mezzo alle sofferenze della pandemia, Gesù, piccolo, inerme, è il segno che Dio dona al mondo. Quando ci è giunta la notizia di questo dono, di allestire il presepe Piazza San Pietro, dono, espressione del liceo artistico di Castelli, una scuola molto importante, e noi siamo, ci siamo riuniti e devo dire, tanto entusiasmo per vivere insieme un bellissimo cammino di preparazione. Poi l'enciclica Fratelli Tutti, devo dire, devo testimoniare il grande entusiasmo di vivere insieme questi momenti.